Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio TPI per Agora su Rai 3, sulla fiducia nei leader. Al primo posto c'è il presidente del Consiglio Mario Draghi con il 53%, seguito proprio da Giorgia Meloni con il 44%. Al terzo posto abbiamo Giuseppe Conte che ha la fiducia del 40% degli intervistati. Vediamo che comunque non è quel 55% che dice in quegli strani sondaggi di Ipsos per il Corriere della Sera. Quindi non Conte al primo posto ma lo vediamo al terzo posto dopo Giorgia Meloni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.